oggi si parla di patrimonio versus reddito in questa conversazione assolutamente stocastica casuale random ok un flusso di coscienza che viene a voi di pura saggezza bigluchiana la premessa c'è tutta allora patrimonio versus reddito io col vostro permesso c'ho qui la mia sbobba da bere amara non sono più alcalino vabbè allora patrimonio versus reddito allora vedo un sacco di persone che ancora si confondono quindi vorrei vorrei spiegarvi un attimo questa differenza quando voi cominciate a fare impresa ragazzi fare azienda cominciate a guadagnare voi misurate il vostro stile di vita misurate i vostri benchmark sul reddito cosa vuol dire reddito quanto guadagnato ogni mese stringendo quanto guadagnato ogni anno va bene quindi all'inizio le persone iniziano a guadagnare dicono voglio arrivare a 30 mila euro netti al mese voglio arrivare a 50 mila euro netti al mese certo che mi sono comprato ho preso il leasing della ferrari perché guadagno 50k al mese quindi posso coprire il leasing eccetera 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 ok dopodiché bisogna misurare questa cosa qua invece sul patrimonio quindi non più quanto mi costa la ferrari rispetto a quanto guadagno al mese quanto mi costa x y z rispetto a quello che guadagno al mese ma quanti soldi o in banca prima di decidere di fare un certo acquisto quindi quanti milioni o in banca e o 3 milioni posso comprare una ferrari da 200 mila che percentuale del mio patrimonio ora il giochino che bisogna fare passare da reddito patrimonio il più velocemente possibile voi non siete ricchi lo ripeterò fino alla morte che siete stati esposti ai concetti sbagliati per quanto riguarda la vera ricchezza ebbene non è guadagnare tanto perché tantissime persone guadagnano tanto il problema è vivere con il reddito versus vivere con il proprio patrimonio voi sarete completamente liberi dal guadagnare reddito quando avete abbastanza patrimonio che cos'è il patrimonio i soldi in banca ok gli immobili senza debito e i portafogli di borsa va bene quindi avete facciamo un esempio aprite il vostro conto titoli e avete 10 milioni avete un milione in cash avete 9 milioni investiti questo è il vostro patrimonio siete decamilionari oppure avete 10 immobili a reddito avete 3 milioni in borsa e avete un milione liquido eccetera eccetera ok senza debito senza altre cose cioè se vi stacco la spina da quello che guadagnate col vostro lavoro con le vostre aziende anche se sono delegate va bene voi vi sedete sul vostro patrimonio il vostro patrimonio tramite apprezzamento e o dividendo fondamentalmente queste sono le due forme ok di guadagno quindi dagli affitti che voi riscuotete dall'immobiliare e dal fatto che il vostro portafoglio di borsa cresce potete staccarvele un pochettino ecco che voi non dovete più lavorare potete non avere più reddito e avete finalmente delle rendite c'è anche un'altra cosa che la traiettoria del reddito delle aziende per certi versi è sempre discendente cioè voi raggiungerete un picco e poi è molto duro andare sopra questo picco non per niente sopra questo non picco sopra questo livello ok quindi dimettiamo che voi possiate scalare la vostra azienda fino a non lo so 3 milioni di ironetti all'anno ok è molto vedrete che a un certo punto non si può andare più sopra per il semplice motivo che non c'è il mercato voi non siete disposti a fare oppure la qualità del denaro diminuisce cioè voi potete fare 5 milioni lordi e 3 netti oppure potreste trovarne a farne 15 milioni lordi e 2 netti al che dopo un po dite ho il triplo del rischio in più perché ho attività per il triplo dei milioni ma guadagno di meno quindi sono meno coperto a fronte di più rischio e quindi la cosa la reputo assolutamente stupida e la reputa lo reputo come una cosa che non va bene e al che dovete costruirvi un patrimonio che possa rimpiazzare il vostro reddito nel tempo minore possibile chiaramente più guadagnate più vi mettete in banca e prima ci arrivate più guadagnate più spendete meno mettete in banca più in là ci arrivate oppure non ci arrivate ok patrimonio impietoso dove molti sbagliano e ripeto considerarsi arrivati dopo che guadagnano tanto al mese questa è stata una delle cose che io ho fatto giusta assolutamente quando ero un novellino ok quando ho cominciato io sono ci ho messo un po a capire come ingranare con i business online eccetera poi sono passato abbastanza velocemente da zero ok la prima botta con i primi sono passato in 3 4 mesi a guadagnare 40 mila dollari netti al mese ok era un bel po di tempo fa adesso sono su ben altre cifre però ci capiamo che da zero a 40 mila dollari netti al mese sono tanti soldi però io da subito ho capito dicevo vabbè io sto guadagnando 18 mila 25 mila 32 mila ok io sto guadagnando molto bene sono a posto a livello di stile di vita ok sei d'accordo ma non sono ricco non ho milioni in banca cioè io non posso a livello di stile di vita mi definivano ricco ma non avevo milioni e milioni in banca l'ho appena cominciato ok e quindi dicevi non posso uscire a comprare una casa da un milione non ho non ho quella potenza oppure se adesso mi si fermasse il reddito non potrei andare avanti anni ok all'inizio chiaramente e quindi ho capito subito che il reddito non è la cosa che va guardata per il lungo termine il reddito è importantissimo ma il reddito è importantissimo in misura in cui aiuta a creare patrimonio non a sostenere solo lo stile di vita voi ne sentite ragazzi di cotte di crude su questa cosa qui incluse fonti che veramente dovrebbero non parlare quando non sanno le cose su questa cosa qui del reddito e di cazzo vuol dire vivere da ricchi e di cosa vuol dire avere tanti soldi e di quanto costa lo stile di devo fare un altro video perché è uscena certe cose che sento sono uscena ragazzi io sento delle uscenità avete mai sentito delle uscenità su questi topics ecco io le sento sempre quindi quando voi per esempio avete delle le persone chiamano aziende automatiche cioè le aziende che sono delegate opposto il fatto che avere tante aziende delegate nelle quali voi non lavorate è un miraggio per quello che vedo io possono essere molto delegate eccetera però ragazzi voi ci lavorerete comunque e saranno dei grandi mal di testa quindi state attenti a queste cose sono comunque reddito non sono rendite sono comunque c'è un rischio ok coinvolto e vorrei anche puntualizzare che il vostro patrimonio non è l'azienda che produce i soldi perché ripeto io sento delle cose che c'è è ora di finirla poi peraltro messaggio ragazzi a tutti se non sapete le cose non ditele va bene anche così continuate a parlare di quello che sapete utile o inutile che sia non c'è bisogno di esprimersi e sproloquiare su cose che ovviamente non sapete ok così no perché alcuni dicono sì il mio patrimonio è la mia azienda no quello non è patrimonio ragazzi ma avete rotto i coglioni io sono rotto i coglioni di questa cosa quella è una roba che ti produce reddito ma se la vendessi mi dessero questi soldi vendila vendila di che cazzo parliamo vendi hai lo stile di vita da 10 15 20 30k al mese la potresti vendere per 5 6 7 porca puttana sono 10 anni di vita andiamo no di più di più hai un ebidà te la comprano per 5 ok è un milione di ebidà sono 5 milioni se tu spendi un quarto di milione all'anno cazzo hai 20 anni di vita vi torna il conto spendi 250 mila all'anno per 10 sono due milioni e mezzo per 20 sono 5 giardiniere gli è squillato il telefono ma stiamo scherzando sai dove te lo metto quel ok no scusate peraltro fa riderissimo perché ha la canna nella stessa posizione probabilmente al pipino e sembra ok ah no ma io potrei vendere le quote perché le bidà delle sì è tutto teorico però fino a che non vendi allora vendi allora vendiamo ma io sto facendo crescere perché sto facendo sì sì ok sei povero basta basta dai non fate capricci voi siete dei bambini capricciosi è vero no bambini capricciosi ok quindi il vostro patrimonio non è l'azienda che vi produce il reddito quello è il reddito ragazzi cioè vanno quello è il reddito giusto bellissimo il reddito se voi non staccate dei soldi da quel cavolo di veicolo li togliete dal veicolo che li genera li mettete in un'altra parte dove sono segregati il vostro conto corrente personale un portafoglio di borsa l'immobiliare staccate la spina tra queste due cose voi non avete patrimonio e voi non siete l'azienda questa è un'altra cosa voi non siete l'azienda voi possedete delle aziende ma se voi tenete l'azienda vuota e continuate per esempio a investire tutto perché l'azienda vi dà un reddito voi avete semplicemente un altro lavoro non potete smettere per esempio di lavorare una delle cose belle di quando avete tanti soldi che voi potete dire vabbè a me st'azienda non mi piace più la chiudo oppure mi prendo un anno sabbatico prendo magari due anni sabbatico voglio girare il mondo vado con mia moglie a girare il mondo non lo potete fare se è l'azienda che vi produce il reddito anche se voi poi vi spiegate che è delegata voi provate a stare lontani dalla vostra azienda meravigliosamente delegata per un anno e tornare dopo un anno lancio la sfida a tutti non è così non è così delegata è una cosa assenza un'altra perché la delega delegare un conto abdicare un altro delegation is not abdication quindi vi dovete svegliare fuori quindi non avete il patrimonio se avete un'azienda che produce reddito va bene avete il patrimonio quando avete i soldini in banca in ultima analisi la tranquillità è data dal cash on pattern che vedo ho visto over and over and over again prenditore è dieci anni che macina che fa che si espande che rinveste eccetera è stanco e non ha soldi è macabro it's scary bisogna assolutamente stare attenti quindi reddito versus patrimonio e so stufo di ripetervi sempre queste cose ragazzi io provo veramente ad aiutarvi ma voi però non apprendete non vi abbeverate alla fonte millenaria di conoscenza che sono io voi dovete apprendere dovete memorizzare e ti studiare dovete applicare soprattutto quindi questo è un attimo il tema non vi confondete tra reddito e patrimonio all'inizio l'obiettivo è avere un reddito molto molto alto perché bisogna avere il reddito molto molto c'è la gente non l'ha capito questo ho reddito alto così posso comprarmi tutto quello che voglio e finalmente ho il reddito alto e così posso fare il nababbo bravo anche giusto assolutamente aumentiamo reddito aumentiamo il tenore di vita sono assolutamente promotore di questa cosa qui ma aumentiamo l'income per quanto aumentate il reddito e quanto più velocemente accumulate patrimonio per non aver più bisogno di quel reddito se voi vi stampaste questa cosa quant'è sta capireste che state facendo delle puttanate che non hanno assolutamente nessun regime di difesa e c'è un'altra cosa e questo è un messaggio per tutti ragazzi vi dovete svegliare anche per un altro motivo un tempo back in the days way 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 back when si dice in inglese era possibile farsi dei piani a 10 15 anni per certi versi era anche obbligatorio perché il tempo necessario per fare certe azioni era molto più dilatato del tempo di oggi ok pensiamo a una campagna pubblicitaria una campagna sì una campagna pubblicitaria che deve raggiungere x persone io la posso fare teoricamente in mezzo minuto io posso io l'azienda c'è può mettere una un video di branding e spararlo su un pubblico su facebook su adwords mettere del budget dopo un'ora la gente già mi conosce ok un tempo ragazzi era molto più difficile adesso il mondo si è accelerato e le cose cambiano molto 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 rapidamente e il fatto che voi continuate in modo cieco a reinvestire oltre il livello di intelligenza c'è ovviamente un cash flow che va reinvestito nella ricerca nello sviluppo nella pubblicità eccetera ma il fatto che voi vi sentiate sporchi ok a diventare anche ricchi dovete continuare oppure volete ammazzarlo per pagare le tasse a privarvi degli utili ok facendo anche delle cose abbastanza funnamboliche perché oltre a un certo livello ci sono conosciuti imprenditori ragazzi in difficoltà io non so più dove mettere il profitto porca puttana nella tua banca ah e cazzo ma se no quando arriva quel momento cioè per gli imprenditori che continuano a fare questa roba dai ma quando arriva il momento in cui diventate ricchi cioè lo sareste chiesti lo sarete chiesti dopo tu cioè bello bellissimo ma c'è in soldi in soldi quanti ok dovete costruire patrimonio non reddito da azienda quello è il reddito dell'azienda che non è il patrimonio ok ho capito che è il patrimonio te io ho capito quello che state dicendo no no ma big ma guarda che tu non capisci io ho dei macchinari in un'azienda specie per le aziende tangibili io potrei rivendere assolutamente bravo e se non la vendi sei sicuro di vendere non è banale eh non è banalissimo non è banale proprio dire aspetta che vendo mi danno 10 milioni cioè anche lì un attimo e se muori prima non lasci niente ai tuoi cari e se ti stufi prima e se ti stufi prima di raggiungere il punto in cui l'azienda è comprabile eccetera 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 pattern ripetuto va bene quindi oltre a un giustissimo reinvestimento per la crescita aziendale dovete anche vedere quanto potete crescere voi non potete dire faccio una cosa adesso e mi privo dei soldi per cinque anni perché così tra cinque anni farò e non è una visione di lungo periodo ecco bisognerebbe fare un video specifico su sta puttanata del lungo perché molti di voi in realtà non hanno una visione di lungo periodo hanno una visione di brevissimo periodo ah scusate no lo dico lo diciamo ufficialmente per gli imprenditori che uccidono il profitto aziendale con costi inutili e dicono che stanno reinvestendo per il lungo periodo non avete la visione di lungo periodo avete la visione trimestrale perché ogni trimestre uccidete il profitto al massimo annuale non è la visione di lungo periodo quella cosa riusciate a perdere ok la visione di lungo periodo dovrebbe essere il vostro patrimonio non il reddito ragazzi la vostra azienda potrebbe chiudere domani c'è voi con che cazzo di non è coraggio è stupidità cioè tra cinque anni tra cinque anni sembra neanche se siamo vivi magari tra un mese lanciano una bomba nucleare e non sono scherzi vi rendete conto anche voi vi richiudono tutti in casa dicendo che c'è il coso delle scimmie perché c'è vi rendete conto dei cambiamenti che abbiamo un imprenditore intelligente dice adesso coltivare un'azienda che mi dà zero soprattutto se ho già zero in banca per tre quattro cinque anni non è molto intelligente quindi non sentitevi dei prussiani perché fate questo soprattutto chi dice no ma io non monetizzo nel corto termine ho una visione di lungo termine no cocco è che non sai come si fanno i soldi e non lo saprai neanche nel lungo termine non sai il marketing tu non hai idea di come si monetizza nel lungo termine né nel breve termine né nel medio termine non te l'hanno mai insegnato compra i nostri corsi ok cioè vi rendete conto voglio dire robe da deficienti ok quindi questa è la mia piccola diatriba quotidiana su reddito versus patrimonio perché al babe no non vi entrano cioè veramente io non so più io non so più cosa dire io non so più cosa dire io sono anni che ripeto le stesse cose voi non le imparate non le imparate niente ok ma quindi cosa dovrei fare biga perché io ho le tasse bravo così sì che sembri un prussiano ragazzi anche piangendo vi dovete staccare gli utili l'azienda deve produrre utili perché l'energia che voi avete a una certa età e il sogno imprenditoriale dopo qualche anno che vi siete belli che rotti i coglioni oltretutto molti di voi hanno questa visione imprenditoriale con dei veicoli di business cioè non è che facciate proprio siete la microsoft quindi ci sta anche che dopo due anni vi passa la delusione mentale capite di avere un'azienda come tutte le altre come tante altre non state facendo la storia non avete la visione non state cambiando il corso appunto della storia del creato avete semplicemente un'azienda che può essere una bella realtà carina però magari prima o dopo vorrete smettere vorrete passare ad altro sapete quanti imprenditori sono in un business che a loro non piace prima prima cosa come fate a lasciare l'azienda se vivete con quella e non sto dicendo che magari avete via soldi perché vi bastino una vita ma almeno che vi bastino qualche anno che avete quella scelta guarda questa attività non mi interessa più velo di elegarlo la vendo la chiudo e poi passa un'altra cosa sono imprenditori che sono che sono semplicemente in una ruota del criceto più grande sono semplicemente una ruota del criceto più grande pensate essere una ruota del criceto che è poco profittevole ed è molto rischiosa allora che cazzo siamo diventati imprenditori a fare l'unico modo in cui funziona fare l'imprenditoria è essere ricchi o diventare ricchi per poi essere l'unica non ha non ha un senso logico fare azienda senza arricchirsi troppi cazzi troppi problemi troppe troppe questioni troppo e troppo ok bene quindi non so ragazzi non so che dirvi non so veramente cosa dire vabbè che per oggi abbiamo finito arrivederci iscrivetevi al canale schiacciate la campanellina lasciate un commento e scrivete scrivete quello che volete ragazzi fatemi sapere cosa pensate tanti commenti non li leggo questa è la classica frase da youtuber ed io non sono uno youtuber per esempio sono un formatore un imprenditore io c'ho un... arrivederci